Il Festival del Cinema del Corto di Caffoscari è l'ennesima grande produzione culturale che Caffoscari offre ai propri studenti e alla città di Venezia. È una grande occasione di visibilità per gli studenti di tutte le scuole del cinema del mondo che attraverso Caffoscari e attraverso Venezia portano al grande pubblico le loro prime opere. È un grande risultato per Caffoscari che fa da collettore delle produzioni cinematografiche brevi ma sicuramente intelligenti ed importanti di tutti gli studenti delle scuole di cinema del mondo. È un grande risultato per i nostri studenti che praticano il cinema, lavorano sul cinema, imparano ad organizzare un festival e non soltanto a studiare la storia piuttosto che la filologia del cinema come facevano prima. È un modo per integrare la nostra capacità di formazione con la nostra capacità di fare, di produrre cultura.